Scende la soglia dei detenuti al carcere Petrusa di Agrigento, una struttura inaugurata alla fine degli anni 90 per contenere al massimo 200 persone, ma che ha subito negli anni carichi su sovraccarichi fino a toccare soglie di ben 500 presenze. Adesso contiene 300 persone, potrebbe essere considerato un record. È questo per effetto dell'Unione Europea che ha condannato l'Italia per lo stato inumano in cui manteneva le proprie carceri detenuti al suo interno, a cui non si riusciva a garantire neanche i 3 metri quadrati, minimi vitali. L'effetto è stato la costruzione di nuove carceri e la relativa tolleranza dei magistrati di sorveglianza. Petrusa ne ha così beneficiato, almeno per quanto riguarda l'afflusso, anche se il grado di vivibilità negli anni è calato a picco. Questo è il quadro che emerge sulla base di notizie trapelate dall'ambiente penitenziario. Non c'è riscaldamento, l'inverno si ghiace, anche l'estate la temperatura è piuttosto fresca. Chi è povero o un migrante resta senza vestiti di ricambio e indumenti pesanti da indossare. A volte nel far arrivare dei vestiti prima che si ottengano i permessi necessari tra le trafila burocratiche passano dei mesi. La situazione igienico-sanitaria è triste, con zanzare tigri a quantità industriale. La biblioteca non è fruibile, l'ora d'aria la si passa tra quattro mura di cemento, senza la possibilità di correre o fare sport. Infatti, in quello che doveva essere il campo da calcio, sono stati eretti dei pilastri per ampliare la struttura, ma da anni si attende la ripresa della costruzione di questo secondo padiglione. Alcuni detenuti di Agrigento vorrebbero, sempre secondo quanto trapera dall'ambiente, più possibilità di integrazione e lavoro. Far qualcosa, insomma, per far passare il tempo. La mentele anche sul cibo, ma soprattutto sull'acqua da bere, quella delle bottiglie o lusso riservato a chi può permettersela. Tutti gli altri bevono quella del rubinetto. Non gli vengono consegnati ricambi o teli per asciugarsi, quindi chi non ha cari o familiari è costretto a rimettersi gli stessi indumenti puzzolenti e freddi o a condividere, nel migliore dei casi, gli asciugamano.